La carta della Crypto 3 è arrivata ed è arrivata con lei anche un nuovo scudo. Ma quindi, cosa fa questo nuovo scudo? Questo nuovo scudo si chiama Manawell e dovrebbe essere un Revolter più debole. Non ho ben capito per quale motivo sia qui, ma quello che fa è quando andrete a fare una schiacciata, magari senza finire a terra per questa miriade di esplosioni, quindi andremo a esaurire il nostro scudo per poi ottenere un bonus danno elettrico a tutti i nostri danni, quindi come Revolter, e a ottenere un 70% di riduzione danno. Il problema è che non funziona se lo scudo è già esaurito. Però, a differenza del Revolter, non vi obbliga ad avere una consacrazione per rompere lo scudo con l'abilità d'azione e quindi è possibile sfruttarlo a meglio. Ora, giusto per farvi una comparativa con i danni che ho appena fatto, vado a mettere il Revolter e guardate la differenza. Il Revolter fa più danno, dà più fire rate, però appunto vi riduce di 1 le consacrazioni che potete mettere. Utilizzando la Manawell, teoricamente parlando, è possibile mettere quelle consacrazioni classiche 50% danno tot quando usate l'abilità d'azione, eccetera, e quindi dovrebbe essere un pochino migliore. Però non sappiamo ancora il valore dei danni bonus elettrici. Potrebbe essere un 25, e quindi sarebbe uno schifo. Potrebbe essere un 200, e quindi sarebbe al pari del Revolter un pochino sopra, ma non mi sembra dai danni che ho fatto, e non ve lo consiglio. Detto ciò, l'arma che sto usando fa danno sia melee che fisico, eccetera. E certo, è ancora un'arma della carta della Crypto 3. Cliccate qui per vedere cosa fa.